I maschili e i quarti di finale play-off stasera alla bella tra Civitanova e Verona. Maurizio Colantoni. Una rincorsa che porta alla bella dei quarti in casa di Civitanova. Meglio piazzata e regolarsi rispetto a Verona. È stata brava la squadra di Gian Lorenzo Blengini sotto 2-0 a recuperare e pareggiare i conti di una serie tiratissima. Ogni sfida è stata decisa dai particolari ma anche dai numeri personali. Civitanova è campione d'Italia, non vuole scucirsi lo scudetto dal petto. Nell'ultima gara ha messo in mostra un servizio eccezionale con gli otto ace del figlio d'arte Alexander Nikolov, schiacciatore di 19enne di altissima qualità. E ancora in attacco le cose migliori come quelle del giovane cubano Marlo Jan, capace di girare un match praticamente compromesso. Dall'altra parte c'è Verona che non ha sfruttato il match point in casa. È una squadra di carattere allenata da un guru come Rado Stoicev, coach che riesce a dare lezioni anche quando si va in campo. Ha costruito una squadra importante e finora è stata una grande stagione. Il sogno di una semifinale ma conquistata o rimane? Soprattutto perché Verona può contare su un attacco stellare a trazione integrale con Keita, Rochmozici e il gigante russo Shapoškov. La vincente affronterà chi passerà il turno tra Perugia e Milano gara 5, si giocherà a Pasquetta nel tutto esaurito del Palabarton.